Allora scusate, io voglio fare un piccolo pezzo del rap che farò, perché non c'era in programma rap, però io per tutti voi ho cambiato la musica originale e la farò rap. Vi faccio ascoltare un pezzettino, si chiamerà con la mente e con il cuore, vogliamoci più bene. Gli anni belli sono passati, adesso si sono fermati, la libertà te l'hanno data, anche qualche stangata. Siamo italiani, tutta brava gente, quello che ci vedete, a voi non costa niente, c'è la luna, boom boom, c'è il sole, boom boom. A che serve il colore se non c'è amore e garanzia in questa padramia? Con la mente e con il cuore vogliamoci più bene, in questa Italia che è sempre più profondo, si deve aiutare che ha più bisogno. Se fiducia vuoi avere, devi fare il tuo dovere. Allora vi vorrei fare ai miei fans un pezzettino di un sogno. Mi sono sognato di essere un capo di Stato, ti racconto una storia, se io fossi un capo di Stato, voglio bene anche a te, tu vuoi bene anche a me. E ti dico il perché, le promesse che farò e per farti stare bene e tranquillo, un lavoro ti do, una casa ti farò, vuoi di più? Basta così, mi faccio accortare un altro pezzettino, vorrei tornassero quei tempi, vorrei tornassero quei tempi di quando ero. Un ragazzo, era bella la vita, andavo pure scalso, per avere la bicicletta, non c'era tanta fretta, ma se avevo 100 lire mi ci andavo a divertire. Allora vi voglio ricordare che lo spettacolo è martedì 21, dalle 9 in poi, ci sarà anche una pausa di un quarto d'ora, è divisa in due tempi. Ragazzi, io che vi devo dire? Sto garbando, ma sono sempre garbato, ora è il massimo, non vi perdete questo spettacolo, potete venire da tutte le parti, anche dalla Toscana potete venire. Sì, io ho avuto dei fans, i fans da tutta Toscana, sono mondiali, ho due video, due video musicali e sta andando in bene, non vi perdete questa occasione, cioè, aspetta, sarà in offerta che la darò in beneficenza. Vi goderete uno spettacolo da non perdere, di più non posso dirvi ragazzi, se poi c'è Pia non ci senta lo ripeto alla grande dopo, ok?